Eccoci qua, benvenuti alla rassegna stampa di scazzo moderato Ho cominciato da questa immagine perché preferisco cominciare da un'immagine che dà la mia faccia perché così è più significativa diciamo di quello che poi andremo a vedere Come avete visto dai commenti, no dai commenti scusate, dalla descrizione di questo video ci sono un sacco di cose di cui ti voglio parlare quindi magari il video sarà abbastanza lungo non so quanto durerà però è domenica mattina, ce la prendiamo con calma Vedo che un po' di amici si stanno collegando, adesso prima di cominciare a parlare a manetta mi bevo anche un goccio d'acqua così mi rinfresco il gargarozzo Come va ragazzi? Tutto bene? Vedo un po' di saluti in arrivo Buongiorno, buongiorno, ciao Ivana, ciao Nadia, ciao Maria e ciao i primi li salutiamo anche Mario Ok, allora cominciamo da un po' di notizie gioia Le notizie quelle che ti fanno cominciare la giornata col sorriso Ok, allora vi avevo già fatto vedere l'anteprima, adesso ve la do allora Il tizio che vedete in questione, in questa immagine, si chiama Bob Iger è il CEO all'americana o amministratore delegato all'italiana della Disney, di tutta quell'immensa multinazionale che è la Disney ovvero non solo produzione di film a cartoni animati ma anche tutti gli studi che fanno la roba in digitale ma anche i fumetti Marvel e i cinefumetti della Marvel ma anche tutto il marchio Indiana Jones e film correlati della Lucas e della Disney anche tutto il brand di Guerre Stellari anche tutto il business dei parchi divertimento, merchandise eccetera Ho parlato della Disney svariate volte Mi vedete storto? Allora, in effetti i messaggi di commento sono un po' strani li vedo storti, quindi vabbè andiamo avanti Ora, ho parlato varie volte della Disney Ne ho parlato varie volte perché comunque la Disney è una multinazionale la cui dirigenza ha deciso da anni di fare politica e di non essere quindi solo più un, diciamo, il marchio per eccellenza la regina delle compagnie per famiglie dove tu porti i tuoi figli al cinema a vedere un film li porti al parco divertimenti eccetera il tutto quanto, diciamo, relativo a comunque quello che sono delle tradizioni e dei valori che sono condivisibili da tutti Loro invece hanno deciso di prendere una posizione politica e quindi ovviamente hanno iniziato a perdere pubblico vi ho raccontato di quando si sono messi contro il governatore della California e chiunque guarda un pochino di film si è accorto di quando Cosa c'è Phoebe? Scusate, c'è la mia cagnotta che Phoebe, what is it? Eh no, no, not allowed Al mio cane parla inglese quindi quando parlo con lei parlo inglese E' molto rumorosa la mia cagnotta Se sente dei rumori fuori è il miglior allarme del mondo Ha delle orrecche che non gli sfugge niente Appena sente un rumore inizia da baia Bene, detto questo Quindi la Disney sta perdendo un sacco di soldi Cosa è successo? Che due anni fa c'era stato Cioè dal 2020 al 2022 C'era stato prima un altro amministratore delegato Ok? E molti avevano puntato diciamo il dito Contro il fatto che la Disney stava iniziando a non funzionare tanto bene Verso questo qui che si chiama Chapek Ma in realtà tutta quanta diciamo la scia L'idea di iniziare a fare politica progressista Arrivava dal vecchio amministratore delegato Che è lo stesso che poi è stato rimesso dopo E già capisci quanto di malato ci sia nelle teste dei progressisti americani Perché lui ha dato un indirizzo Questo Bob Iger che vi ho fatto vedere nella foto Ha dato un indirizzo specifico alla Disney Quello che è successo dal 2020 al 2022 È stata l'onda lunga dell'indirizzo che aveva dato Bob Iger Tutti qui, il board come si dice Il consiglio di amministrazione eccetera Decide che quello che stavano iniziando a vedere Ovvero film che vendevano di meno Calo degli incassi Problemi con la politica eccetera Era colpa del nuovo amministratore delegato Quindi cosa fa? Non riprendono quello vecchio Che è appunto Bob Iger Che come da titolo che vi ho fatto vedere Si dice sia sovrastato ed esausto dal caos della Disney Allora qui è un po' interessante Perché la maggior parte dei giornali progressisti americani Parlano del fatto che comunque la Disney ha perso alcune cause Quindi ha dovuto sborsare dei soldi Del fatto che c'è stato lo sciopero degli scrittori Del fatto che a causa dell'inflazione Magari la gente va meno nei parchi Perché il vero business Cioè il vero fiume di soldi Di tutta la macchina Disney Arriva dai parchi Il resto sono tutto quanto così Carinerie e contorno Il vero core business Il vero nocciolo duro Dove arriva la pecunia Quella seria È Disney Allora Sì Vedo che alcuni mi stanno commentando Che sono in orizzontale Non so Ok Non mi metto a A rigirare il cellulare in questo momento Perché magari si incasina ancora Quindi Se avete il cellulare ve lo girate Se avete il computer Giratelo Non so cosa vi devo Ok Il portatelo lo girate Ora Nessuno menziona però Alcune cose particolari Per esempio Una foto abbastanza indicativa Che io vi vorrei far vedere Allora Vabbè Uno ovviamente La disputa con The Santis Ve l'ho già spiegata In altre occasioni Non ci torniamo Per chi non sa cosa sia successo Andate a vedervi I video vecchi Chiazzo moderato Ma un'altra cosa Secondo me Abbastanza interessante E adesso ci arriviamo Dov'è che l'ho messa Eccola qua Allora La vedete bene questa foto Allora Questo qui è uno dei parchi Della Disney Ok Dove hanno messo Un travestito Vestito da principessa Col mascara E i baffi A dare il benvenuto Alle bambine Che vanno Credo che quello lì Sia un tuo ristoro Questa foto Ha girato In tutti Tutti Giornali Trasmissioni televisive Creatori di contenuti Online Eccetera Conservatori Fra l'altro Allora Guardate questo Questo è un altro Che dice Per caso la Disney Si è spinta un po' Troppo in là Attenzione Questo è The Rubin Report E questo è un giornalista gay Cioè un giornalista gay Che sta dicendo Che la Disney Con sta roba qui Esatto Io Adesso Non voglio mettermi Nelle braghe Degli americani O Anche degli europei Questo che c'è una Disney C'è un parco Disney Anche A Parigi Oltre che nel resto Io fra l'altro Non ho figli Sfortunatamente Non sono arrivati Magari arriveranno C'è ancora speranza Se io avessi dei figli E vedo una roba del genere Di mia figlia Che si trova davanti Un principesso Col cavolo Che gli do Che gli sborso Non cerchiamo Non cerchiamo Non cerchiamo di entrare Nella testa Dei direttori Della Disney Dei superwalk Che escono Dalle università Socialiste americane Perché non ci scappiamo fuori Però i risultati Poi si vedono Non è che solo Il signor Jimmy Non ci andrebbe Perché per esempio Possiamo vedere Come se uno va a cercare Un pochino Su Yahoo News Secondo il sito InsideTheMagic.com Che è un sito specializzato Proprio in tutto Quello che riguarda la Disney Le presenze Della Disney Sono calate In maniera sostanziale Al punto che Alcuni giorni I parchi Disney Sembrano delle città Fantanze Ok? Quindi come dicevo Ve l'ho detto Anticipatamente Questa Oggi Cominciamo con le notizie Gioia La Disney Continua A perdere Colpi La Walk Disney Progressista Batte contro De Santis Che si batte Contro i conservatori Si batte a favore Delle principesse Con i baffi Continua A perdere soldi Hai le spalle larghe? Sì Hai un sacco di soldi? Sì Ma pure di perderli Prima o poi Vedrete Che faranno Un bel tonfo Adesso Vi volevo leggere Una cosa Che ho trovato Abbastanza divertente Come dicevo Entrare nella testa Di questa gente È praticamente Ok? Qui se me li sono sottolineati Adesso vi faccio rivedere Il mio bel faccione Che siete Vero? Allora I poveri di spirito Dopo anni e anni Di fallimenti Di film Che non funzionano Perché li riempono Di ideologie Eccetera Di gente Che smette Di comprare La loro roba Della Florida Che dice Adesso vi faccio Vi cambio le leggi Perché voi avete Dei privilegi Ve li tolgo E le azioni Della Disney Crollano Quale soluzione Possono aver trovato Al calo Dei ricavi Così sostanziale Soprattutto appunto Come dicevo Nel loro core business Ovvero I parchi Che tutto il resto Allora Ce lo dicono Loro stessi Che in Florida I pass Aumenteranno Da 30 A 50 euro Per il giornaliero A Disney World Passerà da 25 A 30 Stiamo parlando Del parcheggio Della macchina Quindi tu appena arrivi Solo per la macchina Gli devi mollare 30 Ci saranno aumenti Anche dei biglietti Che potranno andare Fino al 25% Dipende dai parchi Ok Quindi Il pass annuale Aumenta Di 50 dollari Ok Quindi anche il pass annuale Te lo aumentano Per quelli proprio Convintoni Che vogliono Che la loro figlia Vada tutti i giorni Dal principesso Con i baffi Dovranno sborsare 50 dollari In più I geni Totali Quindi cosa hanno fatto Hanno pensato Se stanno calando I ricavi Perché viene meno gente Da noi Alziamo i prezzi Così gli ultimi Poveri fessi Che continuano a venire Da noi Saranno loro A pagare le conseguenze Dei nostri errori Non cambiamo La nostra politica Non facciamo Magari qualche Diciamo Iniziativa Per far capire Al pubblico Non solo americano Ma mondiale Che non siamo Degli invasati Totali Ma qualcuno Ancora ha un cervello E creiamo anche contenuti Che possono piacere A tutte le famiglie No Questo era Una cosa Troppo furba Da fare Per i super progressisti Della Disney Quindi aumentano I prezzi Un dirigente Della Disney Come viene riportato Dice Noi stiamo Costantemente Aggiungendo nuove E innovative Attrazioni E E Nuovi Intrattenimenti Nei nostri Parchi Quindi Dobbiamo anche avere Una larga Prezziario Che Opzioni Miliardi Di Di In In Nuove Attrazioni Per Migliorare Per I Tiri Stanno Prendendo I soldi E vogliono Spenderli In Infrastrutture Invece Che In Cervello Va bene Ma non è solo La questione Dei parchi Perché anche Il loro servizio Streaming Che è Orribile Aumenterà Di Prezzo A partire Dal 12 Ottobre Il Piano Di Disney Plus Ok Disney Anzi Scusate Disney Plus Diciamolo All'italiana Dove Non all'inglese In inglese Dicono Plus Disney Plus Verrà Portato A 13 Dollari 99 Al Mese Dove Prima Era 10 Dollari 99 Quindi Vuol dire Che hanno Aumentato La Sottoscrizione Quella Gold Quella Figa Senza Pubblicità Del 100 E questi Credono Di aver Successo Capito Cioè Questi Hanno Dei Contenuti Orribili Con Tutte Le Loro Robe Che Fomentano Il Razzismo Verso I Bianchi Con Tutte Le Loro Storie Antistoriche Con Tutte Le Orientazione Che Sia Un Pochino Credibile Quindi Non Ho Il Gosto Di Guardare Una Sieda E Sono La Roba Che Impari Al Primo Anno Di Cinema Non E Fare Qualcosa Che Fa Immergere Lo Spettatore Ovviamente Se Fai Delle Roba Completamente Insurse Lo Spettatore Non Si Immerge Nella Storia Quindi Non Ti Segue Quindi Notizia Numero 1 La Disney Continua A perdere Soldi Non Solo Al Cinema Come Vevo Fatto Vedere Ma Anche Nei Pa E Lì Inizia A Bruciare Notizia Numero 2 I Geni Della Disney Che Non Capiscono Niente Non Sono Ancora Arrivati A Capire Che È Colpa Loro E Quindi Invece Che Cambiare Le Loro Politiche Aumentano I Prezzi In Tutto Questo L'amministratore Delegato Poverino E Stressato Dal Fatto Che Le Sue Scelte Sbagliate Stanno Portando Risultati Pessimi Io potrei Già Chiudere Qui Chiudo Qui Chiudo Questa Diretta Così Belli Belli Gioiosi Belli Tranquilli No Dai C'è un Altro Paio Di notizie Perché Rimaniamo Sempre Nei fallimenti Di chi Fa il Democratico E Finisce Sull' Astrico Ok Adesso Aspetto Perché Questa Qui Se Se Io Ve L'avessi Detto Voi Non Ci Credevate Ne Parlavo Fra l'altro Un paio Di Sere Quando Ero A cena Fuori In italia In toscana Con mia moglie E un carissimo Amico Vi Ricordate Adesso Facciamo Anche Un piccolo Progresso Chi C'era Adesso Un pezzo Che Non C'è I video Chi Vedeva I miei Video Che Si Chiamavano Cinema Del Futuro Dove Io Mi Inventavo Dei film Super Walk Per Prendere In giro Diciamo Il fanatismo Di Adesso Come Avevo Fatto Che ne So Una Poltrona Per Due Dove Appena Dan Icroyd Viene Defenestrato Dal suo Lavoro E Eddie Murphy Diventa Lui Il Ricchissimo Broker Finanziario Il film Finisce Lì Perché Per Per La Sinistra Americana Vedere Un Bianco Che Diventa Povero Il Nero Che Diventa Ricco Il Film Il Lieto Fine Quello Non serviva Non serviva Altro Ne avevamo fatti vari E ce n'è uno Che non mi era neanche venuto in mente Di farlo così Così Assurdo Ma ci hanno pensato direttamente loro Perché Cinema del futuro Era qualcosa di veramente Profettico E infatti State a vedere Cosa ha fatto Cosa ha prodotto Scusate Una televisione Canadese E sapete benissimo Che il Canada È ormai Una delle patrie Delismo Più spinto Walk Robin Hood Gets 1.2 IMDB Rating Director Ex Blast Racing Fan Ok Allora Guardate 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 Secondo voi No Questa tizia Nera Con l'arco E la felpa Verde Chi potrà Mai essere Vabbè Ve l'ho già detto Perché Avete visto il titolo È ovviamente La nuova Versione Robin Hood In Canada Nella Walk Canada Uno studio Televisivo Con un Presente Con un Quello che si vedeva Aspetta Sto sfigato Con la barbetta Da capra Barbetta incolta Da pelo caprino È il Director Italiano Il regista Scusate Questo è il regista Arrabbiatissimo Ok Arrabbiatissimo Perché Perché Che la sua serie tv Con una ragazza Nera Femmina E bisessuale Che interpreta Robin Hood In una scala Da 1 a 10 Sul Internet movie Database Che è una delle Bibbie mondiali Per le informazioni Cinematografiche Dove puoi anche dare Un voto Film e alle serie tv Che vedi Ha preso 1,2 Cioè 1,2 Cioè io a scuola Quando andavo Interrogato E facevo scena muta Perché da due mesi Non aprivo il libro Prendevo due Cioè Due Questo è riuscito a prendere 1,2 È il peggior Voto Di tutti i tempi Probabilmente Se andiamo Se andate a cercare Che ne so Quel gran pezzo Dell'Ubalda Tutta nuda Tutta calda Con Pippo Franco E di Dush Fenech Sull'Internet Movie Database Ha un voto Più alto Di questa Robin Hood Nera Frignona Bisessuale Ora Ovviamente Aspetta che adesso vedete Perché ho tolineato Ovviamente Il Regista A chi può dar la colpa Un regista Che fa Un prodotto scadente Orribile Che non guarda nessuno E quelli che lo guardano Danno un voto A se stesso Al progetto A chi ha scritto la serie No La colpa È dei telespettatori Che sono Razzisti E quindi Non hanno capito Alla qualità Del prodotto Era ovvio Se non ci siete arrivati È perché siete Dei suprematisti Bianchi È ovvio È colpa Lui ha detto Virgolettato Dal momento che Robin Hood Era stata annunciata La produzione Questi Sfigati Hanno cominciato A fare video Recensioni A fare dei tweet Parlando del nostro show E postando anche su Instagram Tutti quanti arrabbiati Perché avevo preso una donna nera A fare Robin Hood Cioè come Come se invece Cioè come se Fosse stupido dire No Cioè già di partenza Sei partito male Fra l'altro Non è che hanno cambiato Solo lei Tutta l'allegra brigata Neri E cattivi A partire dallo sceriffo Di Nottingham Ovviamente Sono bianchi Nelle loro stesse I bianchi sono sempre Bisogna far vedere I bianchi cattivi Se no Non sei un vero Innovatore Ok Adesso A proposito Di bianchi cattivi Parliamo un po' Di vero Razzismo Il razzismo Quello strisciante Quello che c'è Nella società occidentale Alla luce del sole E di cui molti Non hanno coraggio Di parlare Vi faccio vedere Questa tizia Che si chiama Ilan Omar È una profuga Somala Che si è trasferita Da giovanissima Negli Stati Uniti D'America Quel paese Così tanto Razzista Terrimente Suprematista Che non dà La possibilità A nessun nero Di avere Una vita propria Che è diventata Una politica Di successo E quindi Campa Di Sulle spalle Di tutti i Contribui americani Bonta sua E ovviamente Il suo mestiere Principale È quello Di dirgli Che sono Una branca Di razzino Ok Stiamo a sentire Cosa dice Lei lo dice In inglese Poi io Come sempre Ve lo traduco Questa è Una senatrice Del partito Democratico Americano Avete Avete Visto Cos'è Che Com'è Che Sorrideva Bella Contenta Mentre diceva Testualmente Noi In questa nazione Negli Stati Uniti D'America Dovremmo avere Molta più paura Degli uomini bianchi Perché sono loro Quelli che causano La maggioranza Degli episodi Di violenza E degli uomini Comunque il bel sorriso Vedete che bel sorriso Che aveva Ilano Ma non vi sentite più buoni A vedere una somala In televisione In prima serata Che dice agli americani Che sono un branco Di delinquenti Ora Due considerazioni Su una frase del genere Frase numero uno Pensate se In America O anche in Italia Perché tanto il ragionamento Della stampa igienica E' il modo di pensare La logica è la stessa Pensate se fosse Un Polico Bianco A dire Bisognerebbe aver paura Di tutti i neri Perché sono loro A commettere La maggior parte Dei rea Cosa succederebbe? Lei invece può fare Di tutta l'erba Un fascio E dire Bisogna avere paura Dei bianchi Perché sono loro I maggiori criminali Del mondo Tutto bene Tutto buono Tutto inclusivo Tutto antirazzista Ricordatevelo sempre Antirazzista Vuol dire Razzista verso i bianchi E' semplicemente Un altro modo di dire Io odio qualcuno Però oggi va di moda Odiare il mio stesso colore Della pelle Quindi io farò così Io mi dichiaro antirazzista E farò campagna Permanente Per discriminare I bianchi Numero due Fra l'altro Non solo ha detto Una cosa estremamente Razzista Che se la dicessi io Nei confronti dei neri Mi cancellerebbero Per sempre Da qualsiasi social Del pianeta Terra Ma soprattutto Ha detto una cosa Tremendamente falsa E stupida Perché lei dice Ah Il numero totale Dei crimini Viene commesso Dai bianchi Mica da quelli Grazie a sta ceppa Di mazzo Cara Ilan Oma Vivi in un paese Dove il 65% Della popolazione Quindi la maggioranza Della popolazione E' di un certo colore Se vai a prendere Il numero totale E' ovvio Che sono I bianchi A commettere La maggioranza Ma se tu vai a prendere Il numero In percentuale Dove Le comunità nere O i neri In generale Sono Sia no Il 13% Della popolazione americana E vai a vedere Invece quanti ce ne sono Che commettono reati Noterai una sproporzione Clamorosa Fra le due cose Quindi Dire i bianchi Sono quelli Uno si deve preoccupare Di bianchi E' una Matematicamente Una balla Perché statisticamente Se tu sei in una strada Dove sono tutti neri O sei in una strada Dove sono tutti bianchi E' molto più probabile Che finirai Scippato Stuprato Ucciso In una strada Dove sono tutti neri E' statistica E' matematica Sono i fatti I fatti che odia La sinistra Perché la sinistra vive di narrativa Vive delle favole Che raccontano giorno per giorno Di continuo La ripetono Come diceva Goebbels Ripeti una bugia Dieci, cento Un milione di volte Alla fine La gente ci crederà Loro hanno imparato Da Goebbels Adesso Vorrei chiudere Con un'altra notizia In realtà ne ho due Ma no Ve ne faccio solo una Dai che se no Divento quasi noioso Andiamo in Italia Ok Fatto quotidiano E' una notizia che secondo me Anche questa è abbastanza notizia Ok Allora Io l'ho letta Prima sui canali Annali Ovviamente In lingua straniera Poi fra l'altro Un amico di scazzo Che vive alle isole Fiji Ma l'aveva anche Mandato un messaggio Fai visto cosa è successo In Australia Il referendum Accetta Quindi parliamo Di un referendum In Australia E vi leggo Questo titolo Scusate un attimo Bevo un goccino d'acqua Eccolo qui Questo qui E' il fatto quotidiano Ok Il titolo Australia Vince il no Allo storico referendum Sugli indigeni Niente riconoscimento In costituzione Per aborigeni E torres people Adesso ve lo leggo Perché poi vi devo commentare Quello che manca Da questo articolo Che sono un paio di notiziole Fondamentali Per capire meglio Vince il no In tutti e sei Gli stati federali Al referendum In Australia Sui diritti Degli indigeni Del paese Oceano La proposta Sostenuta Dal leader Laborista Anthony Albanese Chiedeva Il riconoscimento Ufficiale Nella costituzione Australiana Per aborigeni E indigeni Delle isole Dello stretto Di Torres Insieme alla creazione Di un organo Consultivo Indipendente Per i cittadini Delle first nation Ovvero I cittadini Discendenti Dalle popolazioni Locali Prima della Colonizzazione Britannica Nel consultivo Per gli indigeni In Australia Si sarebbe dovuto Chiamare la voce Del parlamento Così come proposto Nella dichiarazione Del Uluru Nel 2017 In cui I leader Di diversità Indigene Del paese Hanno tracciato Un possibile percorso Di riconciliazione Con gli australiani Ma con il 70% Dei voti contati Gli australiani Hanno deciso Di mantenere Lo status quo E le proiezioni Della rete Australiana ABC Fanno presente Che il voto contrario Ci sarà In tutti E sei Gli stati Per passare Serviva La maggioranza Nazionale E la maggioranza Dei sì Tra stati Federali Secondo Quanto Riportano I media Australiani Il risultato Potrebbe essere Stato Influenzato Anche dalla Campagna Di disinformazione Diffusa Sui social Che dipingeva La voce Del parlamento Come una terza Camera Del legislativo Australiano Invece Che un semplice Organo consultivo Quale sarebbe Dovuto essere In Australia Nessun referendum Ha mai vinto Senza supporto Bipartisan E quello Appena chiuso È il primo Referendum Costituzionale Quattro anni Allora aspetta Adesso prima di andare avanti Che l'articolo è ancora un po' lungo Ma vi voglio commentare La prima Che dice All'inizio dice La proposta sostenuta Del leader laborista Chiedeva Il riconoscimento Ufficiale In costituzione Per aborigeni Indigeni Se uno legge Una roba del genere Penserà Che in Australia Se tu sei aborigeno Indigeno Non sei un cittadino Non hai diritti Sei una persona Di serie B Non è vero Non è assolutamente vero Questo Referendum Serviva A creare Un organo Dedicato solamente Una specie di Di partito privilegiato Sempre comunque eletto Quindi sempre comunque presente Nelle camere Che poteva Influenzare il processo Legitivo Quindi voleva dare Più diritti Di quelli Che hanno gli altri Agli aborigeni E la cosa interessante È che Come il fatto quotidiano Dice In media Il risultato Potrebbe essere stato Influenzato anche Dalla campagna Di disinformazione Quindi Come sempre Vincono i cattivi A causa Della disinformazione Il problema è che qua Non spiegano Che tutti i politici Di destra Perché attenzione Anche altra cosa Che non spiega Il fatto quotidiano Il fatto quotidiano Dieci anni fa Quando era Un giornale Che non era schierato Come adesso Avrebbe specificato Che questa era una cosa Comunque molto divisiva Dove da una parte C'era la sinistra Dall'altra c'era la destra Da una parte C'erano quelli Che hanno fatto Un referendum Dicendo Bisogna creare una cosa Che sia sempre lì E che quindi Stia in Parlamento E che quindi Dà più potere Agli aborigeni E a quelli Che sono nati lì Da quanta mila anni Rispetto a quelli Di discendenza inglese Che sono arrivati dopo Secondo il fatto quotidiano Però c'è stata Una campagna Di disinformazione Il problema In realtà È che quella legge Non specificava Se questa Iniziativa Avrebbe veramente Creato Una terza camera Nel Parlamento Che aveva il diritto Di veto O meno Quindi poteva essere Fatta bene O poteva essere Fatta male Ma in ogni caso Dava più diritti A una certa etnia Che alle altre Questa si chiama Razzismo Il 70% Dei Degli australiani Ha votato No Al Razzismo Altra cosa Che il fatto quotidiano Si è ben Tenuto Dal non Comunicare Ai propri I lettori È che Questo referendum È assolutamente Una ripetizione Del referendum Che abbiamo avuto noi Il famoso Referendum Costituzionale Di Renzi Nel 2016 Da che punto di vista Non per gli effetti Che avrebbe avuto Ma dal punto di vista Proprio Di come Di chi lo voleva E chi non lo voleva Di chi l'ha promosso E chi l'ha bocciato Perché tutti quelli Che erano Non è solo una questione Di sinistra e destra Attenzione Qui ne faccio un discorso Più generale Ne faccio un discorso Di elite E di gente normale Di fighetti radical chic E di popolo Che vive la realtà Di tutto Perché Quello che non c'è scritto qui Ma invece Chi legge le robe in inglese Sa molto bene Perché poi Veniva spiegato Lo vedevi anche Se guardavi le trasmissioni Australiane È che in Australia Questo mega referendum Buonissimo Bellissimo Stra Democratico Che avrebbe dato Poteri Che la gente normale Non ha solo agli aborigeni A quel 3% di popolazione Perché gli aborigeni Sono al 3% Era Appoggiato Pubblicizzato Sponsorizzato Straspinto E strastampato Da tutte le elite Giornali Università Programmi radiofonici Star del cinema Star della tv Cantanti Erano tutti Per il Sì Il 70% Degli australiani Se ne è fregato E ha votato No Nel 2016 Quando il fatto quotidiano Non era ancora un giornale Schierato Totalmente Inderogabilmente Volutamente A sinistra Il fatto quotidiano Era uno dei giornali Che andava contro Il referendum Proposto Dalle elite Nel 2016 Il fatto quotidiano Era contro Il referendum Proposto Dei radical chic Che ti dicevano In televisione Se questa riforma Costituzionale Non passa Sarà la fine Dell'Italia Ci sarà una crisi Del debito Che quella Del 2011 In confronto Non è niente Lo spread Boom Esplode Ve le ricordate Le strisciate Di gente Di fighetti Arricchiti O Magnaschei A tradimento Che dicevano Se non passa Questo referendum Io lascio l'Italia Perché diventerà Un posto Invivibile E gli italiani Hanno votato No Quest'anno Nel 2003 Più o meno È successa la cosa In Australia Non era una mega Riforma nazionale Era comunque una cosa Che avrebbe impattato Sulla democrazia australiana Visto che Avrebbe dato più potere A una certa etnia Fra l'altro Una minoranza Del 3% E quindi Così è andata Io la chiamerei Notizia gioia Anche se L'Australia è lontana Però una certa gioia Quando io sento queste cose Mi arriva sempre Fra l'altro Sempre un dato Che il giornalista È fatto quotidiano Poverini Non vorrete mica Che vi diano Un'informazione I pennevendoli Sono gente Che dà L'informazione Che gli viene detto di dare Non è che cercano magari Leggono svariati articoli Da varie fonti diverse Così Ricevono di più E poi mettono insieme una cosa Un dettaglino Piccolino Piccolino Tornando poi a quello che dicevo prima Ovvero La disproporzione di certe etnie All'interno di certi paesi Sulla quantità di crimini commessi Sapete nella comunità degli aborigeni Quanto è percentualmente Il crimine rispetto alla media nazionale australiana? 12 volte tanto 12 volte tanto Se voi vedete un aborigeno australiano per la strada È 12 volte più probabile Che quell'aborigeno abbia già commesso O stia per commettere O commetterà in un futuro non troppo prossimo Un crimine 12 volte Non 3 volte Non 6 volte 12 volte tanto È un numero che magari Bisognerebbe farci una riflessioncina Su questo numero Ogni tanto bisognerebbe chiedersi come mai O no? No, facciamo finta di Facciamo finta di Noi siamo bravi progressisti Buoni Istruiti Gente Gente con la puzza sotto il naso Noi ascoltiamo Ilano Mar Che dice I bianchi sono la causa del problema Il vero Uno quando vede un bianco deve aver paura Ascoltate loro Ascoltateli Sono democratici C'è scritto sul tesserino C'è scritto proprio Immunità democratica Possiamo dire qualsiasi minchiata E la passiamo liscia Questo è Oggi Ho finito Spero di avervi dato svariate gioie Io farò il no al referendum Il crollo della Disney Ovviamente la mia gioia più grande È il crollo della Disney Anche l'1,2 Della serie L'1,2 Di punteggio Su internet movie database Della serie su Robin Hood Nera bisessuale Non è male Non è male Oggi Oggi vi ho fatto veramente Una domenica così Proprio Vi mando Vi mando fuori Col sorriso Spero di avervi dato Qualche informazione utile Qualche spunto di riflessione Se vi è piaciuto questo video Come sempre Date un cazzottone Al pulsante mi piace Fatemi anche un bel commento Poi li leggo tutti So che c'è stato qualche problema Di giramento Fra orizzontale e verticale Mi dispiace Adesso mi leggo i commenti Ci vediamo al prossimo video Non state informati Ciao